ola 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 da berro e da finalmente fronzo allora è luna di notte e tutto va bene clevery è bugato in combat e di questo ci dispiacciamo tutti l'intera gilda o quasi è online l'intera gilda o quasi è online salutiamo ikimoto che in questo momento non è in t.s ma ora vi spiego come morire che mi hanno disarciato dal pezzi stronzi sperando che non tiri bestemmie è con noi clevery oh madonna gesù santo è con noi artemius ma se le prende ciao a tutti è con noi signor mabone come avete già sentito ciao negracci è con noi anche il signor arial e ultimo ma si è ultimo e basta no ichi è carbancol mi ha amato un culo ma fan culo ciao 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 mamma dato che abbiamo tutti quanti o quasi salito praticamente al 58 dopo tipo una una marea di tempo che siamo passati qua tipo ad aspettare alla fine abbiamo detto boh ichi passerei domani perchè non è che qua possiamo bloccare un'intera gilda per siamo pronti per passare al continente successivo che sono le outlands allora noi passiamo old style questo qua è capitan findus che vediamo qui ma bug del combattimento e si stentirà bello basso siamo nelle blasted lance che tra l'altro qui c'è bohurt no non lo so dai accettiamo questa missione dove dove c'è io non sto capendo voglio degli amici si si neanche io non sto capendo infatti ci hai invitato adesso dove parti io invito l'intera gilda che come vedete qui si sta stiamo cercando di arrivare un attimo vi vedo nella minimappa siete bellissimi what the fuck si siete veramente in tanti c'è praticamente tre quarti di gilda della la missione lo devo prendere tutti dentro prendete tutti quanti la missione la missione che vi dovrebbe dare questo tizio vieni qua negro mi stanno attaccando ikimoto ah come? mi stanno attaccando vivo mi stanno attaccando lasciatelo lì il negro partì alla ricerca di ikimotors no ikimotors carbunclez è un attimo carbunclez 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 non so se chiamavi il tuo nannopino avevi ancora più amici sono stunnato se mi muovo non scalzarmi è il portale che dovremmo carbunclez dovremmo praticamente attraversare era rimasto piegato povero disgraziata carbunclez brozzo io sostituirei due lei con una t e qui c'è la gara perro versus necruz maabus chi si lancerà per prima BOLOOOOOO Dov'è la questa? è qua del pozzo è qua del pozzo no se l'ho incastrata dai peni via 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 è qua del pozzo l'avete presa? si si se potete andare? è qua del pozzo uno allemondo entrate in sto cazzo di portale porca puttana perchè ne vedevamo per primo tutti dentro i'm a fuck nigga blue vai boom oh finalmente e adesso potete girarvi dietro dietro ho incontrato oddio c'è già una missione andiamo giratevi un attimo dietro aiuto dove andiamo? oh che diavolo è stato a fare questo qua è il modo disagio per arrivare all'interno del con lo terrorista che testa enorme è ti attaccano subito? ah bisogna uccidere? io sto guardando tutta la macchina sono fossero buoni cominciate a macellarvi fammeli corti però stavolta bassi 62 minchia 2000 di vita oddio grazie a dio cosa sono quei costi laggiù? eh quei la non li si deve toccare innanzitutto andiamo a consigliare a queste tutti quanti oh andiamo a picchiare quella sono al 62 si non so che sei al 62 possiamo uccidere? no cioè aspettate perchè più che altro penso che vi sciottino aspetta che prendo arrivo all'in-outland continue complete quest accept ah e questo qua praticamente vediamo se qua ci sono altre missioni ma non penso no zero ho già girato tutto carm è ufficialmente il primo bastardo che arriva a livello 52 in questa cazzo di gilda e una volta che potete fare potete parlare con questa tizia che vi dovrebbe poter collegare a tra il mar e il fire peninsula e ci andiamo? si si tutti quanti andate e via siamo partiti fate un encargo di stracchi e quello al centro cos'è max? quelle cose blu e rosso? no ma ce ne avevi anche addosso ne guardate dietro vi prego che è enorme il portale da quale siete appena passati porca eva c'è pure un negro quello sotto la veste è un negro se voi adesso premete la m di minimappa vedete che siete in un altro continente il continente negro alla bonzi bonzi ci sono i negrati ecco adesso è il continente numero 2 anzi numero 3 veramente e saluta perro grazie mille e noi adesso cominceremo praticamente a chainare missioni senza un senso logico ho fatto il possibile sono al 57 l'ultima missione da warrior è un dungeon ti siamo vicini all'interno del e c'è un xd il cielo è fantastico e c'è qui davanti tipo io voglio morire oh madonna una schiera di negri sono tutti i miei levati e adesso proviamo a vedere dunque aspettate un attimo che qua tra l'altro ci sono auto completanti cose e cazze di quel tipo la i amici sembrano delle pecore smarrite e il fire fortification completiamo la quest freedom of the world e il fire fortification completiamo no c'è un'altra chain di auto completanti si si tutta accettiamo tutto qua non dobbiamo fare assolutamente boh io mi stono ma bone che prende achievement totalmente a caso eeeh aspettate un attimo dunque vabbè si prende anche queste tutte quante le non capendo più un cazzo troppa gente levatevi dai coglioni mi tappate le missioni dunque mi pare che qui dentro ci sia un punto di domanda eeeh la peppina di mallorca che cos'è? ragazzi guardate la minimappa qua sopra della carbonite 500 persone che navigano senza un sensore quanto grosso questo? report to natgren si si grazie va bene accept si si va bene termin more keep listening va bene ma sono difficili le missioni qua direi eh? si infatti ah perchè bisogna leggerlo? no io sto accettando tutto quanto adesso scusate un attimo perchè ci dovrebbe essere è un gatto dai zitto ci dovrebbe essere uno stronzo che vende fermi tutti le mount volanti si oh madonna che arco oh madonna che spada vediamo se è questo vediamo se è questo non l'ho neanche visto dove? eh dove no eh dove cazzo sei? eh sono qua dentro da chi? dove l'hai visto? da questo qua l'hai accettate? eh questo qua? da questo eccolo qua va da... ah ok no non l'ho visto non l'ho visto venite qua venite qua animali l'avete già preso? no no aspetta 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 no no perchè fai queste cose off camera? no che off camera? venite tutti quanti qua da sto tizio gli hanno messi... gli hanno messo tra l'altro il... questo è pagato co-terrorista finalmente potrò volar potrò volar into the wild blue yonder non devo fare la mia patto perchè questo c'è un gettone sulla testa? cosa dobbiamo fare? prendere il coso che c'è qua dentro aspettate ho preso la verbalismo ma non sono a livello 58 ma come faccio? ma cosa a chi se ne frega il 58 prendi... eh... a livello 60 solamente a livello 60 veramente? si che tristezza la vita non possiamo volare dal 60 che cazzo sei? e ora cosa succede? dov'è il mio uccello? nel momento in cui siete al 60 potete andare da un tizio che è questo qua, si esatto sono... non posso salire a questo? esattamente e prendere... e compriamo... le cose oh madonna gesù cristo compro tutto ma con chi devo parlare perchè mi dice che vuole reading 225 eh devi parlare con il tizio che sotto a quella capannetta c'è il... come si dice? dove cleveri? ah si si lo vedo io vado a consegnare questo in speranza di lui questo qua sembra mai stato oh volo volo oh ok esatto e adesso possiamo fare i cacciabombardieri e ta 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 ma dove vai? qui fuori c'è uno scontro tra titani comunque uno scontro tra titani cioè? si c'è uno che mi devo completarla questa che... oh madonna! jam e vol! non devo più farmi chilometri e chilometri a piedi come un africano no adesso te li puoi fare a dorso di cammello volante mamma mia io sono l'unico qui dentro che non può volare vero? l'unico pezzo di merda che ha un livello da quando si può volare pensa a icky le mount possono essere usate anche qua ah si potete appunto andare anche con quello la a piedi ma logica come si fa a scendere? eh togliendoti la mount ma mi faccio del male qua su eh ah queste mount qua volanti possono essere utilizzate solamente qua come solamente qua? ma che ne soi? ma stai scherzando? dai non dircazzate comunque adesso è così ora tipo non ho idea di... tutto quanto è successo vabbè mi vado a comprare le altre perchè non posso volare? eh vero mi dispiace qua sono disagi non sapevo che bisognasse avere il 60 se no vi facevo salire tutti quanti prima vabbè comunque adesso chi ha potuto ha preso e chi non ha potuto potrà tra poco in ogni caso il sunto di tutto quanto questo disagio è questo noi adesso abbiamo un intero come si chiama continente da eradicare per tutto quanto quello che ci interessa e una delle quest tra l'altro che ci porta è Falcon Watch che è praticamente il prossimo punto volo che noi dovremo portare che tra l'altro per una volta noi possiamo portare praticamente in volo nel senso che possiamo cominciare oh madonna non ho più soldi ho 28 gold mi costa 50 vieni qua dove sei che te li do io carità 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 ma buona madonna fai schifo cazzo trade ah ho aggrato il mondo to vai e non peccare più non riesco a scendere da sta cosa posso comprarmi quel cazzo che voglio boh in ogni caso questo piccolo video che non ho idea neanche di quanto cacchio sia durato era semplicemente per riuscire a fare la scena tipo smithers libera i cani nel senso che eravamo più o meno di una settimana bloccati in tanti perchè si andava di aspettare più gente possibile vi chiedo scusa per il casino ma che scusa adesso come vedete tipo il mio popolo si è già sparpagliato all'interno della penisola qua non ho idea di che cazzo state facendo ma io ho visto tipo un gigante perchè non posso volare non posso volare in ogni caso questo qua è un grifoncino piccolino perchè quando andremo nelle nostre a quei punti esclamativi blu cosa sono? missioni ripetibili vuol dire aia ma sei scemo come si fa a scendere? è praticamente premere destro sul towny windrider che che è un buff che dovresti avere sotto il tuo coso ah boh basta che tengo premuto la rotella e faccio prima magari non mentre voli come ho appena fatto io o meno io lo sto facendo comunque signori siamo arrivati nelle outland adesso colonizzeremo questo posto a suon di bestemmie di rosic e di missioni e il bello è che tra dieci livelli neanche dovremo di nuovo cambiare posto perchè passeremo da qui a qui sopra quindi prenderemo altre mount la mano negra vi sorveglia ecco guardate all'insù considerato che almeno per ora null'altro è rimasto da dire salutiamo tutte le persone che sono presenti tra il la gilda intera si la gilda intera salutiamo la gilda c più ikimoto che non è presente fisicamente ma ha tentato di esserci fino all'ultimo quí mama guarda il mio coso muove il culo tattatatatata e insercare un po' eh insercare un duo r sto volando a un po' stava rispettando anche lei anche lei è una donna ovvio c'è tipo il cappello da cowboy una stade stramba il panterone di brisley si si ma viene a vedere questo qua